In mezzo secolo di carriera il professor Parisi ha rappresentato le virtù della scienza, il genio della scoperta, la dedizione alla ricerca, la generosità verso gli allievi e verso la società. Testimonia la vivacità e la ricchezza del nostro mondo scientifico e della fisica in particolare, che dobbiamo valorizzare molto di più di quanto sia avvenuto in passato. Nei prossimi quattro anni destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi che si sono chiusi questa settimana, grazie Ministra, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieremo cinque centri nazionali, gli ecosistemi dell'innovazione territoriali e le infrastrutture di ricerca e di innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico e coinvolgere le nostre migliori competenze. L'impegno del Governo, e a questo proposito voglio di nuovo ringraziare la Ministra Messa per il suo lavoro, è partire dai giovani ricercatori, da molti di voi insomma. Il numero di nuovi dottori di ricerca in Italia è calato del 40% in circa dieci anni, tra il 2008 e il 2019, ed è oggi tra i più bassi dell'Unione Europea. Per invertire questa tendenza, raddoppiamo il numero delle borse di dottorato dalle attuali 8-9 mila all'anno a 20 mila e ne aumentiamo anche gli importi. Questi laboratori, dove 8 su 14 responsabili di progetto sono donne, costituiscono un esempio per tutti. Sono però ancora troppo poche le ragazze che scelgono studi scientifici. Tra le giovani immatricolate nelle università italiane, solo una su cinque sceglie le cosiddette materie STEM, scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, la metà circa degli uomini. Si tratta di diseguaglianze che partono da lontano, addirittura dall'infanzia. Lo ha ricordato nel 2010 un'altra grande scienziata, Margherita Hack, parlando dell'importanza di aver avuto genitori che non le avevano trasmesso comportamenti legati a stereotipi di genere, come anche lei ha detto poco fa. Per promuovere la partecipazione femminile al mondo delle scienze e della tecnologia, dobbiamo intervenire lungo tutto l'arco dell'istruzione, dalla scuola all'università. Investiamo oltre un miliardo di euro per potenziare l'insegnamento delle materie STEM, anche con l'obiettivo di superare gli stereotipi di genere. Come previsto dalla Strategia Nazionale per la Parità di Genere, puntiamo a portare la percentuale di studentesse in discipline STEM almeno al 35% degli iscritti. Senza ricerca non può esservi innovazione e senza innovazione non può esservi progresso. Tocca a noi tutti prenderci cura della scienza come la scienza si è presa cura di noi.